C'è un europeo e cinque caraibici, due americani. E la sfida è già mai tra Stati Uniti, ma devo fare attenzione. Attenzione a Dwayne Chamberlain, prima torsia di Rambretagne. Guarda Tyson è entrato in gara già due ore fa. E l'uomo ti controlla meglio. Tyson senza saliva. Dwayne Chambers, uno. Mark Burns, Trinidad e Tobago, due. Daniel Bailey, Antigua Barbuda, tre. Usain Bolt, Jamaica, quattro. Tyson Gay, americano, cinque. Asafa Powell, Jamaica, sei. Doris Patton, americano, sette. Richard Thompson, Trinidad e Tobago, otto. Otto uomini veloci. Sette. Uno, velocissimo. Sette. E' un po' di regola, non parte benissimo Usain Bolt. E poi va a distendersi, va a distendersi, va a distendersi. Gara per il secondo pergnati. Tyson Gay, l'avete posato a Powell. Torgiamo il campo, guardiamolo. 9,58. Siamo in un'altra dimensione. Siamo in un'altra pianeta. Siamo in un'altra dimensione. Rekord del mondo. 9,58. 9,58. Signori, è cominciata un'altra era. È cominciata l'era, e benvenuti in questa, l'era di Usain Bolt. Bolt 9,69 l'anno scorso. Il record del mondo ai giochi di Tecchino. Arriva il 9,58 che adesso si aspetta per ufficializzare. 0,9. Quasi un metro di vento alle spalle. Quello che, ovviamente, un po' ti aiuta. Ma adesso l'attesa per il tempo ufficiale, poi anche per i piazzamenti, e poi tutte le considerazioni del caso. Oro e tempo mostruoso questo 9,58 che ancora non è stato confermato a livello ufficiale. È solo lì in grafica. 9,58. Per quanto possa subire qualche piccola variazione, c'è un margine di verdura di 11 centesimi. Mai in precedenza un miglioramento così rotondo, così netto. E c'è l'abbraccio tra i due uomini veloci, primo e terzo ai mondiali di Giamaica. 9,58 il tempo che ancora non è stato ufficializzato per... Eccolo qua! Record del mondo a 9,58. Tyson Gay a 9,71. Secondo posto, Tenza Sapa Powell a 9,84. Daniel Bailey di Antigua Barbuda a 9,93. Oro e bronzo per Giamaica.